Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. E' uscito finalmente il trailer di Venom. Onestamente sono stra curioso perché il film, in base alle premesse, in base a che non c'è il personaggio di Spider-Man che sarà sganciato dal Marvel Cinematic Universe, non è che mi faccia presagire qualcosa di buono. Però sono curioso di vedere cosa hanno tirato fuori, soprattutto perché Tom Hardy come attore mi piace parecchio. Però, come al solito, bando i convenevoli e iniziamo subito. Allora, c'è le partitazioni. Allora. Il logo è figo. «Everon's got their thing. Maybe it's a breakup. A death. An accident. Whatever it is You used to be one thing Now You're something else We all have our own problems Our own issues Demons Finito così C'è ancora qualcosa? Ma cos'è? Boh Potrebbe essere qualsiasi cosa Sinceramente A parte la scritta Venom alla fine Potrebbe essere qualsiasi cosa Tu che ne dici fuori te? O Mino fuori campo Fa schifo Ottimo Questo Beh fa schifo no Cioè sembra carino Però per ora Ok è un teaser Però non si vede È un qualunque film con Tom Hardy Sì È Tom Hardy Che ha smesso di fare Bane E sta girovagando per la città Ma Ripeto Il film non sembra malvagissimo Però non si vede niente Si vede un simbionte Dentro la La tecchina di vetro Per tipo un secondo E poi basta Non si sa Se sarà l'agente Venom Non si sa se sarà proprio Venom Veri e proprio Si vede solo il logo E Tom Hardy che corre Camina Macchine che esplodono Boh Non lo so Sinceramente Non solo da aspettarmi Aspetteremo un trailer Un pochino più corposo Che magari ci faccia vedere Qualcosa di più Soprattutto Che ci faccia vedere Venom È possibile vedere Venom Nel film di Venom E quindi niente ragazzi Fatemi sapere cosa Avete sempre pensato Invece voi Con un commentino qui sotto A me ha lasciato Un pochino perplesso Ma Vedremo più avanti Ciao a tutti Era meglio Spider-Man 3 No comunque scherzi a parte Male male